Di Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026, quelle di Milano Cortina e nelle quali un ruolo determinante verrà giocato anche dalle gare disputate nel nostro territorio, si fa un gran parlare. Certo che rappresenteranno una decisiva opportunità non solamente in ambito sportivo. Il riscontro mediatico, la risonanza internazionale potrà infatti rivelarsi una cassa di risonanza di immenso valore per il futuro dell'intera provincia. Quello scatto decisivo, destinato a cambiare l'interpretazione di turismo e di tutto l'indotto ad esso collegato. Di questo abbiamo parlato con Andrea Monti, Communication Director di Milano Cortina 2026. Una carriera giornalistica prestigiosa che lo ha visto come direttore per circa dieci anni della Gazzetta dello Sport e poi di Panorama, Oggi, Sette e GQ. Sua l'idea del voto da casa per i due logos olimpici presentati durante l'ultima serata del Festival di Sanremo da due testimonial d'eccezione, Federica Pellegrini e Alberto Tomba. La scelta di presentare i due logos a Sanremo e di sottoporli a voto popolare è una conseguenza naturale di una delle intenzioni forti di queste Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Questi devono essere davvero i giochi di tutti. È la prima volta che un logo olimpico viene votato dalla gente senza intervento dal comitato organizzatore. Questo ci rende estremamente orgogliosi e credo dovrebbe rendere orgogliosi tutti i fan di questi giochi. Un evento dal valore complessivo di circa un miliardo e mezzo di euro, un vero e proprio trampolino di lancio per l'economia, proviamo a pensare a cosa rappresentò solo sei anni fa l'Expo di Milano. Ed ora, tra soli cinque anni, questa che è destinata ad essere un'innovativa chermessa olimpica, intesa come media factory, che produca cioè contenuti. Ma bisogna partire subito. Questo è l'unico grande evento previsto e prevedibile nel prossimo decennio e ne abbiamo molto bisogno perché è un'occasione di ripartenza economica dopo il disastro della pandemia. Voi sapete che i giochi mettono di fronte a un televisore 3 miliardi di persone in tutto il mondo, quindi sono una vetrina straordinaria. L'importante è che questi giochi partono da subito. Bisogna mettere in moto una macchina economica che ci consenta, in nome della sostenibilità, di finanziare la parte sportiva delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi privatamente. Su questo, ovviamente, i territori e le loro eccellenze avranno molta voce e un grande ruolo. Ma attenzione, è vietato commettere errori già visti. Bisogna pensare a quanto accadrà dopo il 2026. Una sfida importante, anzi forse la più importante per questi giochi, è la capacità di pensare non solo a quanto avverrà nel 2026, ma a quello che succederà dopo il 2026, all'eredità che noi lasceremo alla gente e ai territori che hanno ospitato le Olimpiadi e Paralimpiadi italiane. C'è la necessità profonda di una legacy concreta che riguarda i territori in ambiti che sono assolutamente chiari, sono quelli della viabilità e delle strutture essenziali, del turismo. E poi c'è un'eredità sportiva che riguarda gli impianti e però si allarga a tutto il paese se le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 riescono a diventare il motore. Un motore all'accensione del quale dobbiamo partecipare tutti, cominciando magari dalla scelta del nuovo logo olimpico. Un nuovo inizio parte anche da qui. Se ancora non lo avete fatto, andate sul sito milanocortina2026.org o scaricate la nostra app e votate. Votate per questo simbolo, per il vostro simbolo preferito, fate sentire la vostra voce, diventate amici di quest'Olimpiadi. Il vostro appoggio, il vostro entusiasmo ci serve. È un cammino lungo, cinque anni, ci accompagnerete e ci darete forza. Grazie. Grazie.